la formazione online del placement il colloquio complimenti se hai ottenuto un colloquio significa che sei già a buon punto nel processo di selezione perché solo il 10 per cento delle candidature vengono portate fino al colloquio le modalità selettive cambiano molto in funzione delle dimensioni dell'azienda e della posizione ricercata quindi ti puoi trovare a fare un colloquio di gruppo un colloquio motivazionale un colloquio conoscitivo comunque nella maggior parte dei casi si parte con un colloquio individuale a cosa serve il colloquio allora la persona che ti sta facendo la selezione ha già letto il tuo curriculum vitae che va già bene per quella posizione quindi attraverso il colloquio vuole capire se effettivamente il tuo profilo è adatto e quanto quali sono le tue competenze come ti esprimi vuole valutare qual è la tua il tuo livello di motivazione e anche per te è un'occasione in quel momento l'azienda seleziona te ma anche tu selezioni l'azienda e la posizione se ti piace se ti interessa allora non è un esame è un momento di fortissimo stress questo senza dubbi però non ci sono risposte giuste o sbagliate ci sono le conoscenze le competenze le risorse ed esperienze che collimano o meno con quella specifica posizione non c'è nulla di personale in questo se a parità di competenze arriva una persona che è di madrelingua della lingua veicolare dell'azienda passa avanti e in questo non c'è nulla di personale quindi questo però non significa che tu non ti debba preparare perché ci si può preparare per il colloquio non lasciare nulla al caso rileggi con attenzione l'offerta per la quale ti eri candidato o candidata e che nel frattempo non avrai perso quindi quando ti candidi per un'offerta archiviala scrivi dove l'hai trovata quando l'hai trovata che tipo di candidatura hai fatto e la tieni da una parte così nel momento in cui vieni chiamato per un colloquio telefonico ti ricordi di cosa si sta parlando studiati bene il profilo professionale web content editor per esempio chi è che cosa fa che tipo di contratto ha normalmente ok quindi qui basta fare una ricerca rileggi bene il tuo curriculum e portalo con te in cartaceo non in chiavetta chiediti cosa ti ha spinto a candidarti e qual è la tua motivazione perché sicuramente ti verrà chiesto cerca di pensare a quali domande faresti tu per capire se una persona è adatta per quella posizione preparati anche sulla persona che ti farà il colloquio cercala su linkedin cerca se trovi dei video delle presentazioni e ricordati che farà lo stesso quindi metti su google il tuo nome e il cognome guarda che succede riguarda i tuoi profili social rinfresca il tuo profilo linkedin e degli altri profili decidi cosa lasciare pubblico e cosa no studiati bene l'azienda le dimensioni la storia i prodotti l'immagine dell'azienda quali sono i competitors qual è la sede principale proprio in che paese è come è strutturata l'azienda quali sono i valori e le politiche come funziona la carriera e come funziona il processo di selezione questo tutto questo normalmente si trova nel sito dell'azienda il selezionatore non è un nemico da combattere in quel momento siete esattamente sulla stessa barca perché il suo lavoro è trovare il candidato giusto per la posizione giusta e fare questo presto e bene lui o lei desidera che tu sia la persona adatta quanto te perché dovrà rendere conto a qualcun altro che giudicherà i suoi risultati e in quanto tempo li avrà raggiunti allora come ci si veste per il colloquio ci si veste in maniera diciamo in linea con il ruolo e con l'azienda quindi anche qui nel sito aziendale ci si può fare un'idea di qual è l'immagine dell'azienda dai la mano in maniera ferma non troppo forte sorridi mantieni il contatto visivo senza fissare cerca di mantenere una postura morbida non dire bugie poi ci torniamo non parlare male o in tono lamentoso di esperienze precedenti colleghi docenti questo mai cosa pensi tu quando appena conosci una persona questa persona comincia a parlare male dei suoi vicini di casa dei suoi colleghi della sua università di tutto quanto ascolta bene le domande ascolta attivamente e fai domande pertinenti per ogni domanda che ti verrà posta c'è una motivazione precisa di solito quindi abbi fiducia nella professionalità di chi ti sta di fronte e dimostra la tua questo è un vero e proprio colloquio professionale da cui tu puoi imparare delle cose anche indipendentemente da come andrà poi la selezione prendi sul serio la cosa e se vuoi che essere preso presa sul serio mi parli di lei allora questa domanda c'è sempre ok che sia un colloquio individuale che sia un colloquio di gruppo quindi quando all'inizio si fa un giro di presentazioni che sia un brevissimo colloquio a uno stand a un career day mi parli di lei c'è sempre quindi è opportuno prepararsi a casa uno schema la tua formazione a partire dal corso attuale in momenti salienti dipende dalla posizione ma può essere la tesi di laurea o un esame in particolare o un laboratorio o un tirocinio esperienze extra universitarie lavori lavoretti stage volontariato associazioni aver fatto il tutor essere rappresentante degli studenti quindi quali sono le cose importanti per te cosa ti piace fare qui tu in due tre minuti stai raccontando in qualche modo una storia che deve avere un capo e una coda ok e deve possibilmente dare anche un'immagine lasciare qualcosa di quindi puoi raccontare se per te sono importante un tuo interesse una tua passione quali sono i tuoi obiettivi cioè a che punto sei e verso dove vai qual è la tua motivazione come è nato l'interesse per quell'azienda cioè che ci fai lì meglio non impararsi a memoria questo discorso perché altrimenti si sente che hai imparato a memoria e ricordati che il selezionatore ha già letto il tuo cv quindi mi parli di lei non deve essere una ripetizione di tutto il curriculum per filo e per segno ma dare qualcosa in più fai esempi racconta episodi nel momento in cui la persona che ti sta facendo delle domande vuole ricercare certe competenze in particolare la cosa più efficace per farlo è farti raccontare un episodio quindi perché le competenze trasversali non si imparano a scuola no si imparano nella vita quindi se io voglio sapere se tu hai problem solving se tu hai buone competenze relazionali quello che mi conviene chiederti è mi racconti un episodio in cui ha risolto un problema mi racconti un episodio in cui attraverso la collaborazione con gli altri ha raggiunto un risultato quindi ti conviene anche se non ti puoi preparare a tutte le domande possibili immaginabili però ti conviene pensare a qualche episodio e pensare a qualche episodio che sia che riguardi lo studio o il lavoro perché entrare in argomenti che riguardano la tua vita personale e familiare potrebbe poi farti entrare in uno stato emotivo che ti crea maggiore ansia quindi episodi che riguardano lo studio o il lavoro le associazioni insomma cose abbastanza neutre qual è il suo obiettivo dove si vede tra cinque anni che una domanda sull'obiettivo sempre qui nasce sempre insomma questa domanda è molto molto spinosa mettiamo in chiaro una cosa chi fa la domanda sa benissimo che quando si è giovani spesso non si hanno obiettivi specifici questo se lo ricorda quindi quello che tu ti devi chiedere che cosa vuole che cosa vuole sapere ha bisogno di sapere se fai sul serio cioè se resterai se quell'esperienza è quello che vuoi perché se tutti candidi per il controllo qualità ma quello che vuoi nella vita è fare ricerca è molto facile che nel momento in cui troverai qualcosa più vicino alla ricerca te ne andrai quindi il fatto che il selezionatore la selezionatrice vogliano vogliano che tu sia la persona giusta e che tu stia bene in quella posizione non è perché sono buoni è perché questo significa che resterai e che lavorerai meglio ok quindi se non hai un obiettivo specifico puoi anche rispondere un pochino in maniera più generica cioè mi piacerebbe fare un lavoro che mi permetta di mi piacerebbe ritrovarmi in un'azienda che 10 domande qui abbiamo messo quelle che ci sembrano più frequenti quindi mi parli direi senz'altro perché si è candidata per questa posizione perché dovremmo assumerla qual è la sua massima aspirazione in cosa si considera bravo che tipo di persona è lei punti di forza punti deboli cosa sa della nostra azienda come ha trovato questo annuncio queste domande le possiamo provare perché al placement facciamo simulazioni di colloquio e le facciamo anche specifiche cioè sull'azienda su un'azienda specifica o su un profilo specifico questo ci permette di andare un pochino più in profondità rispetto a un semplice colloquio conoscitivo e le possiamo provare in un luogo sicuro e poi vediamo le tue risposte insieme decidiamo cosa andava bene cosa puoi migliorare eccetera quindi è un vero e proprio allenamento esperienze negative questo è un nodo del colloquio perché tutti noi nella vita abbiamo fatto delle esperienze negative un corso di studi che hai capito che poi non ti piaceva hai cambiato università hai cambiato città un lavoro in cui non ti trovavi bene quindi dal curriculum nasce spontanea la domanda perché ha cambiato corso di studi perché ha lasciato il suo ultimo impiego se ti trovi a parlare di queste esperienze negative non è che devi mentire assolutamente però ti devi concentrare sul positivo cioè stare poco sul problema e molto di più sulla soluzione cioè perché hai deciso di cambiare lavoro non stare a lamentarti no perché l'insoddisfatto perché il capo era cattivo perché i colleghi erano antipatici eccetera eccetera ma che cosa cercavi cioè perché sento il bisogno di crescere in un'azienda di respiro diverso ok oppure ho cambiato università non perché ero insoddisfatto perché i professori non c'erano mai perché ma perché il nuovo ateneo poteva offrirti una formazione in lingua inglese o perché l'ambiente perché la città ti permetteva di continuare anche a danzare quindi cosa ti permette di fare l'esperienza successiva questo anche nelle domande comportamentali cerca episodi che siano andati a finire bene cioè quella volta in cui avevi un problema mentre gestivi un evento e come l'hai risolto quella volta in cui c'era un problema relazionale nel tuo gruppo e come l'avete superato ok allora interessi personali attenzione alle bugie il selezionatore potrà farti domande su tutto quello che è scritto nel cv e a volte si cade proprio sugli interessi personali perché si reputano poco importanti ma a volte anche proprio per rompere il ghiaccio per metterti a tuo agio il selezionatore ti può fare domande sui tuoi interessi personali e tu quindi innanzitutto devi aver detto la verità sul cv quindi se hai scritto mi piace leggere ti chiederà che cosa leggi che libro hai sul comodino e di quell'autore che cosa hai letto se scrivi mi piace viaggiare deve essere vero perché ti chiederà che tipo di viaggiatore sei e che viaggio vorresti fare se ti danno un viaggio un premio da 10 mila euro che viaggio fai perché c'è differenza tra un viaggiatore backpacker e un viaggiatore da crociera e qui di nuovo non è che uno è meglio o peggio però si approfondisce al colloquio quindi quello che scrivi nel curriculum deve essere vero e tu devi aver voglia di parlarne perché non sai mai poi chi hai di fronte se tu scrivi che ti piace giocare a scacchi magari ti trovi di fronte un campione mondiale di scacchi. Ok di solito sul finire del colloquio si chiede se hai delle domande. Il colloquio è un momento di scambio quindi fare domande è opportuno se non ne fai sembra che tu non veda l'ora di andartene che magari è anche vero però fare domande indica motivazione quindi possono essere domande sulla formazione sulla crescita in azienda ma anche più specifiche qual è la sua giornata lavorativa oppure su quella posizione no se è una posizione che c'era già se è una posizione nuova le esperienze da fare in azienda da il clima in azienda. Allora da un buon colloquio si esce senza grandi domande in testa l'azienda seria ti spiega tutto anche i dettagli sul contratto sul tipo di lavoro eccetera se esci con tante tante domande da quel colloquio parliamone. Ok il colloquio finisce quando lasci l'edificio quindi sorridi ringrazia dai la mano di nuovo con un contatto un breve contatto visivo chiedi pure quali saranno le modalità e tempi di risposta perché lo puoi chiedere anzi te lo dovrebbero dire loro e dopo una decina di giorni un paio di settimane puoi anche rifarti vivo o viva. Tutto questo è indice di motivazione. Al placement office trovi consulenza sulla ricerca attiva del lavoro quindi su tutti i passaggi del processo di selezione e sul colloquio di gruppo facciamo delle simulazioni durante l'anno e puoi prenotare scrivendo a me a Cristina Rubegni chiocciolani.it per prenotare una simulazione di colloquio individuale.